Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Oggi siamo qui sulla versione sviluppatore del gioco ragazzi, il che vuol dire che ho delle news in anteprima per voi Permessa doverosa che faccio prima di tutti questi video Ragazzi, la versione sviluppatore viene data solo ed esclusivamente ai partner Supercell Ed è uno strumento che serve a mostrare ai nostri iscritti in anteprima le novità che Brawl Stars decide di condividere Quindi come sempre un pollice in su e iscrivetevi se volete restare aggiornati su tutte le novità per quanto riguarda gli aggiornamenti dei giochi Supercell Non a caso comincio questo video con la versione base di Dynamike Ragazzi, tra poco vedrete anche voi, questo brawler è stato stravolto con una skin assurda Che proveremo in anteprima oggi, ok? Ma non è l'unica novità perché prima ancora di farvi vedere Dynamike SPAM! Voglio mostrarvi lui, il nuovo Bo Ed è completamente diverso da quelli che abbiamo già visto all'interno del game, versione white e versione gold Questo bensì è la versione arancione che presenta sempre degli effetti sonori diversi Infatti ha la voce di Bo ma robotizzata E cosa possiamo fare se non provarlo in una bella showdown ragazzi? Allora, vediamo un pochettino, vediamo un pochettino Eccolo qua, cioè che figata che è ragazzi Cioè secondo me è una delle skin più belle di nuovo dell'ultimo aggiornamento Perché io sarò sincero, quando l'ho vista per la prima volta Non l'avevo neanche vista con un Bo Mi sembrava quasi un brawler nuovo E credetemi che stessa cosa vale per Dynamike ragazzi Tra poco ve ne renderete conto anche voi E adesso vabbè, qua sto giocando contro i bot ragazzi Sto bull qua posso andare praticamente in faccia che non mi chillerà tipo mai Ok Però insomma, vi faccio vedere un po' i movimenti Un pochettino le animazioni anche Perché cosa molto figa sono Uno, i colpi Guardatele un po' su varie angolazioni Non sono le tre frecce classiche ma sono tre razzetti E poi un'altra cosa molto molto carina È la ulti Adesso provo a buttarla là in mezzo Guardate bene Tac Cioè avete visto? Ha praticamente queste Queste sorte di robottini Chiamiamoli così, ok Che ci stanno? Ci stanno parecchio E hanno anche una bella animazione Facciamo un brevissimo recap Di come è esteticamente questo brawler Allora, come potete vedere Dalla testa si denota chiaramente che è boh Perché appunto ha comunque la testa d'aquila Quindi io grazie a quell'elemento che ho detto Ok, questo è boh Altrimenti veramente sembrava un'astronave E poi ragazzi ha Come potete vedere I razzetti sui avambracci Quelli che spara E le ricariche dei medesimi razzetti In questa sorta di backpack Che ha dietro E anche le gambe potete vedere Che praticamente sono come protette Da questa corazza arancione Ma in realtà dietro nascondono questa struttura Completamente robotica Forse l'unica cosa che rimane uguale È il visore sugli occhi Azzurro Quello è l'unica cosa che Si trova anche nelle altre varianti Ecco Quindi insomma Questo era il carissimo boh ragazzi Adesso non prendiamoci in chiacchiere E ritorniamo su Dina Non a caso ho selezionato la versione base Quella normale Perché vorrei farvelo vedere Una volta per tutte ragazzi Per capire com'è di base In teoria Questo brawler E in particolar modo Vorrei farvi Concentrare Sulla forma Della sua barba Guardatela bene ragazzi Perché come potete vedere Ha vari spuntoni E questa cosa qua La ritroveremo tra poco L'avete visto anche dalla miniatura Vi presento Il nuovo Dynamike Oh mio dio Il suo nome non è più Dynamike Ma è Dynamacchina Geniale E come potete vedere Ci sono vari elementi Diciamo da prendere in considerazione Allora Prima di tutto il brawler È molto più grosso Della skin base Questa è una cosa da non sottovalutare Perché Se non ero nessuna skin Aveva avuto un cambio di dimensioni così Prima d'ora Cioè il primo brawler Che effettivamente Usandolo Con un'altra skin Risulta più ingombrante Che poi non è uno svantaggio All'interno del game Ma per carità Però risulta Di un'altra dimensione Lo vedremo poi effettivamente Anche durante la partita Tra poco È completamente diverso Il pulcino Famosissimo Che sta nascosto Sotto il cappello di Dynamike L'abbiamo visto Tanto tempo fa Nel nostri video Delle curiosità Ha ormai preso Il controllo Completamente del brawler Anzi è lui Che controlla La macchina E questo lo si può capire bene Dal fatto che i movimenti Del pulcino Sono sincronizzati Con i movimenti Del robot Questo è proprio Voluto Secondo me Per far capire Che è il pulcino Quello che comanda ormai Tra l'altro schinnato Anche lui Perché l'hanno vestito Tipo da avviatore Una roba del genere Ma dettagli Comunque Oltre a tutta la ruggine Che vedete Su questa nuova skin Se noi la giriamo Completamente Ragazzi Troviamo Questo segno Non è la prima volta Che capita una roba del genere Perché Se selezioniamo Penny Troviamo questo simbolo Sul suo cappello Stessa cosa vale per Daryl Stessa cosa vale per La vicente Bibi Ragazzi Che però bisogna girare E vediamo il suo segno Tra virgolette Sulla schiena E stessa cosa vale anche Per gli altri brawler Tipo Nita addirittura Ha una collana Con il segno di Nita Che è la zampina E quindi Ufficialmente Quello che vediamo qua dietro È il simbolo di Dynamike Perché questa barba Che vediamo sul teschio È la stessa Che abbiamo visto poco fa Sulla skin base Ma insomma Chiusa la parentesi Ragazzi Lo sapete A me queste curiosità Sui brawler Mi intrippano un sacco Voglio provarlo Sia con La prima Star Power Quella che gli permette di saltare Così vediamo anche L'animazione Quando salta Capire Persino il simbolo Che vi ho fatto vedere Sulla schiena Si riesce a vedere Persino il pulcino In testa Si riesce a vedere E non è finita Adesso vi lancio Un po' di colpi Ragazzi E potete vedere Che praticamente Lui lancia I suoi pugni Che sono effettivamente Dei pugni Esplosivi D'altronde Fantastico Cioè Cambia leggermente Perché cambia Cambia la distanza Del salto Però È fantastico Cioè È un altro brawler Quasi non sembra lui Ragazzi Fa stranissimo Dai andiamo a killarcelo Con la ulti E via Adesso seleziono però L'altro star power Ragazzi Perché lo proviamo Un po' più seriamente Ok Anche se Ripeto Siamo comunque Contro i bot Quindi tipo Se non vinco Mi posso anche sparare Però dico Lo andiamo a provare Un pochettino Più seriamente In una mappa più adatta Ai trower Ok Così vediamo anche un attimino Se magari vi convince Anche se Come vi dicevo Già anche prima Non penso che siamo arrivati In uno di quei punti Dove I brawler Sono talmente Tanto grossi O talmente Tanto Elaborati Da Risultare poi Troppo esagerati Per fare una partita Secondo me È ancora più Che accettabile È stato ben disegnato Semplicemente Un design molto curato Questo spike Mi magna Inamichevole Ti prego no Ho rischiato di morire Contro uno spike Sì Esattamente Avete visto bene Dai che voglio Provarmi la super ulti Non l'ho preso Dai proviamoci Sta super ulti Potenziata E bla 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 E ciao ragazzi Sto game Ho usato la sua Di ulti Te ne schiaffo un'altra Ok Cioè guardate che roba Io se lo faccio girare Vado quasi a coprire Le slot Per i miei compagni Cioè l'hanno fatto Veramente enorme Sto brawler Lo voglio Lo voglio assolutamente Ragazzi Anche perché ora che Dynamite si può portare Sopra le 500 Super easy Ho bisogno Di avere una skin Da usare in partita E questa fa decisamente Al caso mio Ma come si potrà Ottenere Questa è una cosa Che mi chiedete spesso E io ovviamente Mi sono informato Per dirvi subito La news Se non siete Dei super scalatori Potete stare tranquilli Perché non si otterrà Con i punti stellari Bensì come le altre skin Eh Diciamo Robotiche Quella di spike Che abbiamo visto Di recente E quella blu Di crow Sempre vista Di recente Si potrà Ottenere All'interno Del negozio Come d'altronde Anche in match a bo Che abbiamo visto Poco fa Come già detto Tempo fa Non vi posso Parlare di prezzi Non vi posso dire Effettivamente Quanto costerà Questa skin Piuttosto che Questa qui Perché ragazzi I prezzi Non sono Confermati Fino al momento Del rilascio Non sono definitivi Fino al momento Del rilascio L'unica cosa Che vi posso dire E che a differenza Delle skin Che venivano introdotte Tra virgolette Una volta Su Brawl Stars Queste hanno Più animazioni Perché abbiamo visto Animazioni anche Per quanto riguarda I colpi Non solo per quanto riguarda I movimenti Della skin Abbiamo anche L'animazione Per la ult Abbiamo anche Gli effetti sonori Insomma Sono skin Molto più elaborate Supercell sta cercando Di farle sempre Più personalizzate Ma insomma Anche per oggi Ed è vero tutto Siamo giunti al termine Del video Io spero che Appunto Quello che faccio Su questo canale Vi possa piacere Se è così Iscrivetevi Attivate la campanellina E fate un salto Iscrizione Perché trovate Tutti gli altri Mei social Come twitch Dove stream Instagram Dove vi condivido I migliori momenti Delle mie live Oppure solamente Anche telegram Dove abbiamo dei gruppi Dove ricevete Le notizie Sui video O discord ancora Dove proprio Abbiamo la possibilità Di parlare Assieme E soprattutto Vedo che tantissimi Di voi Trovano gente Per giocare Riescono ad avere Uno spazio Per fare le room E potersi parlare Insomma C'è una bella community Tutto in descrizione Anche perché vi ricordo Che ci sono Gli avatar speciali Per gli iscritti Scaricabili gratuitamente Li potete utilizzare Su whatsapp Telegram Instagram Youtube Twitch Facebook Insomma dove volete Così quando lasciate un commento Magari qua sotto Oppure su Instagram O su Twitch O insomma da qualche parte Io vedo subito l'avatar E capisco che Non è un tizio di passaggio Quello che manda un messaggio Ma è qualcuno che In un certo senso È un po' un veteranuccio Del canale Con questo è davvero tutto Ci si becca Oggi pomeriggio Alle 6 e mezza Come sempre in live Ragazzi Ciao